La comunità ortopedica sviluppa continuamente nuove tecnologie da utilizzare nella chirurgia sostitutiva del ginocchio. La chirurgia assistita da computer o blocchi di taglio 3D personalizzati sono esempi di nuove tecnologie chirurgiche. È importante che i pazienti conoscano tutte le tecnologie disponibili come è altrettanto importante sottolineare che attualmente non esiste nessuno studio di superiorità. Eseguire una protesi computer assistita o meno non migliora il risultato di una protesi articolare a medio breve termine. L'esperienza e la formazione del chirurgo rimangono uno dei fattori più importanti. Grazie a tutti.